Gesù Cristo. Ecco la lettura in polacco del Vangelo ci porta con la mente, col cuore a ringraziare la storia di questa immagine di cui facciamo memoria, festa oggi in questo santuario della Divina Misericordia, in cui celebriamo anche l'inizio di questo periodo decisivo per noi che è la Quaresima, mercoledì delle Ceneri. Nel Vangelo Gesù attacca un punto decisivo per la nostra autenticità davanti a Lui. Dice, state attenti di non praticare la vostra giustizia per essere ammirati, per essere ammirati. Cioè essere ammirati vuol dire guardare meraviglia verso qualcuno o qualcosa. Quindi Gesù dice che è possibile che a volte facciamo le cose solo per essere ammirati dagli altri, per essere guardati, per essere lodati. Il mondo vive, vive del culto dell'immagine di sé. Lo vediamo sui nostri telefonini, sulle varie social. Ognuno cerca di mettere, di descrivere chi è, come è, come è, spesso lo facciamo perché vogliamo apparire agli altri quello che noi vorremmo essere, quello che noi pensiamo di essere. C'è come un culto dell'immagine di sé, è innegabile. Tutti si industriano per apparire qualcosa da venerare. Ci sono settori della industria che vanno in crisi, ma anche prima dei tempi del Covid con la crisi e anche durante il Covid, la cosmesi, i centri di bellezza, non sono andati in crisi. Anzi hanno aumentato. Perché? Perché il mondo vive del culto dell'immagine di sé. Uno deve apparire sempre giovane, forte, bello. fino alla malattia, a diventare schiavi, fino ad ammalarsi. No? Cos'è l'anoressia? Portare all'eccesso il culto dell'immagine di sé fino a farsi del male, pur di apparire in un certo modo. Ecco allora, fratelli, Gesù attacca questo modo di farsi ammirare. Anche perché la trasmissione della fede è legata a una visibilità. Che siano una sola cosa perché il mondo veda, che siano una sola cosa perché il mondo creda. Quindi la trasmissione della fede è visibilità. E infatti qui stiamo parlando di cose santissime, religiosissime, digiuno, l'elemosina, la preghiera, no? L'elemosina per essere lodati, la preghiera per essere visti, il digiuno per far vedere agli altri. Ecco fratelli, trasmettere la fede non è questione di apparenze. Dice il Papa, si trasmette la fede non per proselitismo, no? Convincere gli altri che è giusto questo, che tu fai questo e anche loro devono fare questo. Proselitismo. Ma per attrazione. Cioè il bene si diffonde da sé. Anzi, dice ultimamente Papa Francesco, per irraggiamento si trasmette la fede. È interessante che usi questo termine. Perché? Perché vedete Gesù, che è la sapienza incarnata, oppone a questo culto dell'immagine di sé, che dobbiamo attaccare in questo cammino quaresimale di ascesi, dice Papa Francesco, oppone anche oggi in questa chiesa in maniera particolarissima, oltre che in Polonia, il culto dell'immagine di Dio, che è Gesù Cristo. che è Gesù Cristo. Chi vuol vedere il volto del Padre, mostraci il Padre, ci basta. Ma Filippo, se ho tre anni che sono con te, ancora non avete capito che chi vede me, vede il Padre. E noi guardiamo questa immagine, certo il vestito di Gesù, forse non ci sembra dei più eleganti di quelli che vanno a Sanremo, o vediamo i piedi scalzi con le piaghe. Ma questo irraggiamento viene dalle piaghe di Cristo. Perché viene dalle piaghe? Perché per irraggiare, per attrarre verso la fede, ci passa la mortificazione di sé. Esattamente il contrario di quello che ti dice il mondo, che è al culto dell'immagine di sé. Ecco, da questa chiesa dobbiamo uscire con questa sfida quaresimale, dire no, voglio avere il culto dell'immagine di Dio, che è quella, che è quella che ha benedetto Giovanni Paolo II, che è quella che è stata dipinta per volere di Gesù Cristo stesso il 22 febbraio del 1931. Perché? Perché questa immagine non è solo l'immagine di Dio, fratelli. Quando Santa Faustina all'inizio dice Gesù abbi compassione di me, non affidarmi cose tanto grandi, vedi bene che sono un pugno di polvere buona nulla. Polvere. La formula di oggi, quando ci verrà messo adesso la cenere in testa, è questo. Uomo, ricordati che polvere sei e polvere ritornerai. Quindi l'immagine di Gesù che noi vediamo dipinta è l'immagine di Dio, ma è la tua vera immagine. Perché quando Santa Faustina trovava ostilità o comunque resistenza, lei è andata a dire, allora Gesù mi ha detto di dipingere questa immagine. E un sacerdote ha detto, vabbè ma questa immagine è nella tua anima, dice. E Gesù dice, sì, la mia anima, la mia immagine c'è già nella tua anima. Però io voglio che venga dipinta perché tutti la vedano. Però dice, la mia immagine c'è già nella tua anima. Ecco fratelli allora quello che potremmo, come dire, combattere nello spirito del male. Combattere il culto dell'immagine di sé quando noi andiamo e senza che ce ne rendiamo conto, il mondo ci convince a un pensiero unico sulle cose. Voi parlate con tanti ragazzi, quello che è sorprendente non è che l'idea che hanno su una cosa o sull'altra, è che tutti la pensano allo stesso modo. L'uniformità è la babele. Gesù non benedice questa uniformità, che ricorda l'uniforme degli eserciti sovietici o nazisti del secolo scorso. Dio combatte questa uniformità, vuole la pluralità delle lingue, cioè la pluralità del culto, delle culture che lodano Dio secondo la loro storia. Ecco allora quello che potremmo fare? Noi siamo polvere senza questo irraggiamento. E l'irraggiamento, cioè la risurrezione dopo la crocifissione di Gesù, è un dono da chiedere, se no noi rimaniamo polvere appunto. Sia come persone, se noi ci prostriamo, schiavi o anoressici o malati, alla cultura dell'immagine di sé. Siamo polvere, cioè non contiamo nulla, non abbiamo nulla da proporre perché non viviamo né come singoli perché soccombiamo al culto dell'immagine di sé e neanche come chiesa. Perché? Perché senza questo irraggiamento di Gesù anche la chiesa era diventata inesistente. Impotente, impotente ai tempi di Gesù. Gesù è tornato nel Cenacolo e quando non ha trovato Tommaso è ritornato per dire guardate che io vi ho costituiti non come polvere. La luce non può stare sotto il letto, deve essere posta sopra. Vi ho fatto luce del mondo, sale della terra, ma se il sale perde il suo sapore, che è appunto quello di essere liberi di fronte alla proposta del mondo, non contro il mondo ma sopra il mondo, non contro la ragione ma superando la ragione. Ecco quello che fa questo irraggiamento. Certo noi siamo polvere e polvere ritorneremo. Tuttavia Gesù che viene nella domenica in Albis, nella domenica della divina misericordia, viene risorto. Cioè ha vinto, ha vinto l'immagine dell'uomo che muore. Anche lui era un cavere sulla croce, ma nello Spirito Santo poi è risorto. È risorto. Così anche noi. A che serve questo cammino quaresimale? Serve per guardare l'immagine di Dio che è già nella tua anima. Appoggia da parte qualche ora il tuo telefonino che ti mette continuamente l'immagine del culto di te o del culto di altri o di come vorresti essere. E questa cosa ti fa vivere idolatra del culto di te. Appoggia il telefonino e tira fuori questa immagine che Gesù lui stesso vuole che tutti abbiano accesso a questa immagine. Perché? Perché ti ricordano che nella tua anima c'è già l'immagine di Dio. Tu sei fatto a immagine e somiglianza di Dio. E questa cosa è incancellabile. Martì Lutero, che è stato visitando questo ospedale una volta, non era tenero con i cattolici, lo sappiamo. E la teologia protestante, diciamo, non crede nella totale redenzione, come se l'immagine di Dio potesse essere cancellata. Andando via da questo ospedale, disse se andate a Roma fate un salto all'ospedale Santo Spirito, lì si vive il Vangelo. Per dire che noi abbiamo un tesoro, che è la nostra teologia cattolica, l'antropologia umana, noi che già tanto ci ha insegnato Giovanni Paolo II, la quale dice che la tua immagine e somiglianza di Dio non può essere cancellata, neanche dall'umiliazione del peccato. Perché quando tu pecchi sei umiliato dal diavolo che ti umilia, dice vedi, ti accusa e poi guardi il crocefisso, guardi Gesù misericordioso. E Gesù crocefisso ti dice che lui si è umiliato per te, perché tu ti possa umiliare davanti al sacramento della confessione e rinascere. Pace a voi, pace a voi, a coloro i quali rimetterete i peccati saranno rimessi. Cioè sei libero, sei ricreato, nuovo, a immagini di quell'immagine che sta sotto tutta quella montagna di spazzatura che entra nella testa e nel cuore dei più giovani ai più anziani. Una volta stavamo in un posto, e concludo, a un certo punto c'era una persona con un telefono, c'era un momento di incontro, quindi tutto in silenzio, e voleva farci sentire una cosa al telefono. ha acceso il telefono e dice, attenzione, il livello della spazzatura del tuo telefono ha raggiunto il culmine. Il livello della spazzatura, cioè aveva tradotto dall'inglese che ormai non c'era più spazio di archiviazione, perché erano così tante le notizie, foto, eccetera. Ecco, stiamo attenti, nostro cuore, di non riempirlo di spazzatura. San Paolo dice, ho considerato tutto questo spazzatura rispetto alla conoscenza di Gesù Cristo. Ecco allora, fratelli, opponiamo al culto dell'immagine di noi stessi, il culto dell'immagine di Gesù misericordioso. Quella viene dal cielo e ti suggerisce che purificando nelle piaghe della tua malattia, dei tuoi limiti, la tua vita, allora irraggerai l'amore di Cristo, che si dona a tutti per te e per la costruzione della Chiesa e della pace nel mondo intero. sia lodato Gesù Cristo.